Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Eurabbia, di Bat Yeyor, ristampato dall'editore Lindau con il sottotitolo Come l'Europa è diventata anticristiana, anti-occidentale, anti-americana, antisemita, con un nuovo saggio introduttivo dell'autrice. Bat Yeyor è lo pseudonimo di Shel Littman, nato in Egitto, ma di nazionalità britannica, che ha dedicato la sua vita allo studio della dimmitutine, la condizione di sottomissione in cui vivono le comunità etnico-religiose, non musulmane, nei paesi islamici. L'espressione Orabia, conata da Bat Yeyor, è stata fatta proprio e diffusa da Oriana Fallaci, che molto deva agli studi di questa scrittrice. Nella prefazione alla nuova edizione del libro, alcune lucide osservazioni sono dedicate al Global Compact on Migration, il patto globale sulle migrazioni dell'ONU, che vuole aprire la strada alla conquista islamica dell'Europa. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.